Salve a tutti e bentornata in questa nuova video recensione. La Warner Bros. Interactive Entertainment e DC Entertainment oggi hanno rivelato un nuovo trailer che mostra i primi tre personaggi del suo nuovo DLC, che sono Capucetto Rosso, Starfire e Sub-Zero. I giocatori potranno lottare con questi combattenti leggendari dell'Università DC e Mortal Kombat e potranno sfruttare le loro mosse e abilità uniche acquistando le Ultimate Edition di Injustice 2 o la Deluxe Edition. Injustice 2 sarà disponibile per il PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 18 maggio. Capucetto Rosso, Starfire e Sub-Zero sono ancora in fase di sviluppo e saranno resi disponibili per il download dopo il lancio del gioco.